Musica Successo di iscrizioni per la seconda edizione del premio giornalistico Estra per lo sport Raccontare le buone notizie Le premiazioni dei giornalisti di carta stampata, tv, radio, web nazionale e regionale di Marche e Toscana ad ottobre a Prato nella sala consigliare del comune Musica Accordo Estra e Confesercenti Arezzo per bollette più leggere Ai commercianti associati Estra Energie blocca il prezzo del gas per 12 mesi e offre condizioni vantaggiose per la fornitura di energia elettrica Musica Estra promossa dai clienti Lo rileva un'indagine dell'istituto Piepoli sul servizio vendita del metano Secondo la ricerca l'immagine di Estra è superiore agli altri fornitori di gas La soddisfazione per i servizi offerti raggiunge quota 8,20 su una scala da 1 a 10 Più alta ancora la soddisfazione per competenze e cortesia degli operatori Musica 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 Musica